Conclusa questa esperienza di C'è posta per casto, la posta dal cuore di Gay.it, ho concluso quantomeno questo ciclo, volevo lasciarvi con una considerazione, non tanto fatta sulle domande che ho ricevuto, ma sui commenti che mi è capitato di leggere in risposta ai video. Commenti che lasciano trasparire una profonda sfiducia nei confronti delle persone, delle relazioni e devo dire soprattutto in ambito omosessuale. Il commento più emblematico che ho letto è stato I gay sono persone squallide. Premesso che a parlare era un omosessuale ho chiesto Tutti gay? Anche io? Che non conosci? Anche il mio partner? Che non conosci? Anche i miei amici? Che non conosci? Se sei circondato da persone squallide, forse c'è una ragione. Quello che puoi fare è dare ogni giorno il meglio di te. Le persone a te attorno saranno ispirate a fare meglio o se non vogliono farlo, se ne andranno lasciando al posto a persone che condividono il tuo approccio alla vita. Io non ti conosco, gli ho scritto, ma sono certo che offensive generalizzazioni non rappresentano il meglio che tu puoi fare. Lui mi ha risposto, lo so Immanuel, ma io ho sofferto tanto. Naturalmente non esiste un'unità di misura del dolore e ognuno ha il diritto di esprimere la propria sofferenza e dire che ha sofferto tanto. Va però detto che esistono insomma delle esperienze che possiamo considerare come universalmente dolorose. Notiamo allora però che una persona che ha perso il partner a seguito di una lunga malattia degenerativa o una persona che ha perso la famiglia durante un bombardamento non va poi su Facebook a scrivere i gay sono persone squallide. Non lo fa. Adesso però sembra che io mi sia contraddetto, ossia che voglia negare la sofferenza di questa persona. Non è così. Quello che voglio dire io è che i gay sono persone squallide. Non è la voce del dolore, è la voce della rabbia. Ora non voglio essere io a fare una generalizzazione, però devo dire che nella mia esperienza ogni volta che ho avuto a che fare con una persona arrabbiata, nel profondo, questa persona è arrabbiata perché sente che non viene dato lei l'amore di cui ha diritto. Si sente violata nel suo diritto di essere amata. Ma questo è il punto. Un adulto non ha il diritto di essere amato. Un adulto ha il diritto di essere rispettato, di essere accettato, di essere libero di amare e di venire amato, ma non ha il diritto di venire amato. Ne conseguirebbe che gli altri abbiano poi il dovere di amare quella persona. Un bambino ha il diritto di essere amato da chi gli fa da genitore. Ed è anzi, secondo me, il suo diritto più sacro, addirittura più sacro del sostentamento. Perché sapete, ci sono zone del mondo, non certo quelle in cui viviamo noi, in cui a volte un genitore non è in grado di sfamare il proprio figlio. Ma un genitore è sempre in grado di amare il proprio figlio. Se non lo fa, è una scelta sua. Per un adulto, essere amato è un privilegio. E guai a scambiare un privilegio per un diritto. Le conseguenze sono sempre catastrofiche, la rabbia è solo la prima. Guai a convincersi che la nostra infelicità dipende dal fatto che non abbiamo un privilegio. Essere amati è un privilegio che spetta ad una piccolissima elite di adulti. E da chi è costituita questa elite? Da chi, nonostante tutto il dolore della sua vita, sceglie di tenere aperto il suo cuore. Sceglie di fidarsi, consapevole che così facendo potrebbe andare incontro ad altro dolore. È un privilegio che spetta a chi, nello squallore di cui abbiamo parlato prima, sceglie di guardare alla bellezza. Io vi mando un bacio e grazie per aver seguito questo ciclo di Ciò Posta per Casto. Grazie, naturalmente, a Gay.it. Un bacio. Grazie. Grazie.